calegnaia 3 settembre 2019 prima due colmorani poi quattro colmorani dei sei che ogni tanto gironzono per calegnaia sono venuti sulla spiaggia a prendere il sole ed asciugarsi le penne oggi 3 settembre 2019 a calegnaia c'era il mare calmo acqua veramente calda sembrava di fare un bagno caldo un vento di terra a ghiaccino che quando si usciva dava leggermente noia sulla spiaggia non c'era nessuno tranne quattro gatti i livernesi come d'abitudine di solito cominciano ad andare al mare ad aprire però dopo il 20 25 di agosto si stufano e al mare non ci vanno più mentre invece a settembre il clima è sempre buono per fare dell'eccellente mare perché praticamente il mare di solito è sempre calmo l'acqua è calda sole non brucia più ed è decisamente un contesto migliore per fare il bagno e stare sul mare piuttosto che ai primi di giugno o ai primissimi di luglio quando il sole brucia e l'acqua spesso è piuttosto ghiaccio un saluto è tutto Grazie a tutti.